Oggi è un giorno molto speciale perché è tornata con noi in Sicilia, Salvai, è tornata in gruppo con noi e ci tengo a dire questa cosa perché comunque quando qualcuno arriva da un infortunio porta dentro il gruppo tutta la fatica e il sacrificio che ha fatto nei mesi di riabilitazione e quindi per noi è sicuramente un valore aggiunto, ci tenevo per noi. Grazie